Scusi signor Francesco, ma il testo cos'è? Un libro? Ma no signore, il testo è lo strumento ideale per cuocere la piadina. Vedi signora, pretendere di cuocere la piadina senza testo è come non so andare in spiaggia d'estate col capotto. Non si può fare. Lei signora, si fidi di me, una volta che avrà provato il testo non potrà più farne a meno. E poi può cuocerci la carne, le verdure, il pesce, insomma quello che vuole anche dare il testo al suo marito e poi da oggi anche in offerta a soli 25 euro al posto di 37 acquistando solo una confezione di riccione piadina. Allora guardi Francesco, mi ha convinto, se la piadina viene così bene cotta sul testo io sa cosa faccio? Ne prendo tre. Una per me e due per le mie amiche. Al prossimo episodio Grazie a tutti.